E adesso una nuova molly clip di 511 da agganciare a tutti i pannelli molly dei nostri zaini e del nostro equipaggiamento. Beh questa rappresenta l'elmo di un gladiatore con una sottile linea blu. La blu thin line rappresenta le forze dell'ordine e quindi quello che separa una società ordinata e sicura da una società nel caos. E i gladiatori, beh a chi non piacciono i gladiatori no? Aggiungo una curiosità perché l'ho scoperta mentre arrivavo qui. Beh pare che il pollice alzato e il pollice verso non fossero i gesti reali dell'epoca. Ma il pollice alzato rappresentava la spada sfoderata e quindi indicava la volontà di terminare l'incontro e la persona sconfitta. E invece il pollice all'interno del palmo della mano rappresentava la spada reinfoderata e quindi la volontà di risparmiare il gladiatore. Beh non so se questo è veramente vero ma i gladiatori ci piacciono e le molly clip ancora di più.